questo vuol dire che si è triggerato proprio male proprio dentro l'animo cioè non penso che mi passerà cioè anche quando finiamo di registrare me ne vado a cena come fa? prevedibile era nel vaso dove eravamo prima cioè nemmeno mi sono all'interno io ho sparato da lontano io non ho più nulla da registrare con voi quest'oggi ve lo dico magari quando mi proporrete qualcos'altro tornerò a registrare insieme a voi però per oggi non ne ho più interesse no espi non voglio più registrare niente di niente e ragazzi come va? io sono feri niki e io sono stef e stiamo qui con un nuovissimo episodio del pro punt in compagnia di espi giochi e luca esattamente allora la mappa di quest'oggi è un po' troppo grande devo essere sincero è davvero grande 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 quindi ci saranno tante trollate tanti nascondili epici tante tante cose che ci faranno letteralmente impazzire soprattutto a me quindi preparatevi a vedermi letteralmente impazzire per riuscito ad avere un video super divertente quindi di sicuro vi piacerà ovviamente ricordatevi di passare dal canale di espi giochi in descrizione e partiamo subito con il video siamo fermi dai forza io mi sono nascosta vabbè facciamo un nascondigli separati però non ti muovere hanno detto di star fermi un attimino perché ti stai già muovendo spiegami un attimino sta cosa io sono sotto nello stesso posto in cui eravamo prima e io me ce lo sto cercando da due ore e speravo che capissi che dovessi venire anche tu ma non capisci mai nulla vabbè ma io sono onesto almeno Steph e sai che cosa serve essere onesti? a perdere ecco che cosa serve non puoi dire queste cose funziona così attento che ti incastri si è pieno di posti stagni ah sono chiuso dentro Steph ok io un bel nascosto no espi dai ti prego dai chiama l'ascensore allora io mi metto a cercare senza di espi mi dati un indizio dato che sono da solo io sono da solo no anche io sono da sola cioè io mi sono si vabbè ma io devo trovarvi entrambi e sono da solo perché espi è diversamente bravo ma dov'è espi scusami è anche abile comunque dai sto non volevo dirlo espi volevo essere gentile ok sono uscito allora Luca dici che sia all'aperto sono vicino al cavallo lo prometti che sì all'aperto sono giurin giurello giurin giurellissimo ok ok va bene li troveremo sicuramente Ferri ha guardato il mio schermo Ferri ha guardato il mio schermo per qualche motivo cosa ti ho guardato per vedere dove sei sta confabulando con Luca scrivendo in chat no ci stiamo scrivendo dove siamo per capire per capire io non so dove Luca sì siamo in posti differenti perché non c'era tempo all'inizio quindi io mi sono nascosta in un posto e in un altro io ho un tetto sì l'ho già detto io sono al chiuso quindi Ferri è al chiuso io ho una qualcosina sopra la testa ok espi 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 è qua come è qua un tetto ma all'aperto l'ombrellone quindi è uno di questi oggetti ha senso ha senso allora prendi tutto in mano e butta se non lo puoi acchiappare vuol dire che Luca aspetta espi ho trovato la fontana e ci sono altri ombrelloni dove? oh ciao Steph perché non ti butti dentro allora se mi vedi dimmi cosa sto facendo in questo momento ok ho trovato aspetta c'è una sca vediamo sono morto Steph cosa? perché? se è rimasto solo espi qui abbiamo vinto siamo nella discoteca se la trovi magari capisci chi siamo magari eh ma dai ma è fuori giro a suicidarsi vuoi fare senza trasformarci? si chiudi le porte però sei sicuro? cacchio 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 ok Luca altra vittoria per noi ciao Luca altra vittoria sicura le porte non ci trasformiamo senti ok dateci ancora un po' fermi 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 a diritto a noi però non avete dato più tempo sai che ve l'abbiamo dato? no 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 io sono rimasto lì fermo ad aspettare allora ti piace questo? Luca dove sei? sì mi piace io sono dove ci sono tipo le auto fuori ok io sono dentro dove ci sono le auto fuori Luca allora dobbiamo cercarci che luogo interessante non dovete ascoltare ma noi dobbiamo cercare voi non il contrario interessante interessante eh non lo so io sto sniffando un po' i tubi di scappamento non è una buona idea Espy fanno male dici e poi è appena dato un indizio gigante noi siamo cioè abbiamo qualcosa sopra la testa esatto ok quindi questo è anche il garage è un primo indizio perché secondo me Espy stava parlando di qualcosa di macchine ok ok quindi tipo vedi questo è il garage è qualcosa sulla testa bella teoria bella teoria io non so neanche dov'è perché stai ridendo la sento parlare però mica ho capito che intende secondo me sono in qualche parte con l'auto ok ma una volta ho trovato un nascondiglio bello bello non lo so Espy vediamo fra un po' di tempo va beh secondo me per giudicare aspetterei un po' per me no Espy mi hanno già trovato eccola lo sapevo che faceva schifo guarda non è vero perché vi siete messi là perché per quale motivo ti aspetto qui Espy però siamo allora lasciate le porte aperte guarda guarda dai un'occhiata no non ce l'ho fatta io mannaccia comunque ho visto ok io sono in la molla comunque il coso principale Steph dove sei? qua 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 vieni 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 che ci sono le porte aperte no 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 Espy loro sono molto sicuri del nascondiglio che hanno fatto e stanno facendo parkour no Luca ci trolla Luca ci trolla perché non ci riesco vedi Ferre non riesce a fare un salto Ferre non riesce a fare un salto quindi sono da qualche parte ok oh mio Dio basta straffinare le mani come una mosca smettila li vedo li vedo anch'io sono tipo alle piscine allora ok è bellissimo è bellissimo mi vedete? è il nascondiglio della vita mi vedete? quindi dateci un bel indizio forza siamo all'aperto beh siamo all'aperto no non basta non basta questo è un indizio proprio il sole è splendido e quindi ti sta bene non abbiamo niente sopra la testa ho una teoria ho una teoria però non so come tornare dove sei tu quindi non te ne andare vabbè allora vedi che c'è quella torre secondo me loro hanno fatto parkour e sono andati su quella torre lì quella davanti a noi anche io sto pensando a qualcosa di simile aspetta aspetta quindi adesso noi cerchiamo di saltare lì ma non è vero dove le vedi le torri scusa? vede lascia fare a Steph ok sono vicino sono vicino stanno stando sono troppo zitti no non cadere non cadere non cadere sono troppo zitti sono troppo zitti sono quella che fa dove sei Stef? dove sei finito? oddio guarda Espy guarda Espy Espy sei praticamente attaccato a noi Espy no vabbè così lo confondi no cioè attaccato insomma sì sì dai cioè secondo me ce la fa Espy guarda Espy forse ho capito sono 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 in un albero non so se è possibile sono in un albero? no bello quell'albero eh Espy sì sì ti piace? ha detto cosa? prendili guarda è l'indizio migliore è che siamo nella zona di Espy guarda più di così non in che senso è la zona? molto vicino a te Espy molto guardati ben intorno guarda stendoti qualcosa di strano mancano 15 secondi quindi giratevi ci ve lo diciamo giratevi dai giratevi dove? salta Luca conta con la Steph tutto il tempo sopra di noi e non ci ha visto tutto il tempo ma come avete fatto andare lì? Steph c'è pure arrivato Steph c'è arrivato e diceva ah sono vicino sono vicino e rimaneva fermo sopra di noi e allora ho cercato di farvi credere che invece eravamo nella posizione di Espy ma no ma avete trollato io sono andato sì malissimo malissimo stavo piangendo Espy ma scusate ma ci avete detto non te ne sei accorto tu no riguardanti quella scena eri sopra io mi stavo avvicinando e Steph allontanando era il contrario sì esatto esatto a quanto pare sì ma dai non è corretto così perché a un certo punto c'era Steph sopra di noi quindi c'è come non capiva nulla stavamo ridendo troppo sono arrabbiatissimo sono super triggerato quindi ora mi nascondo bene e purtroppo Espy non è con me quindi il nascondiglio epico sarà solo per Steph mi spiace mi spiace Espy dovreste focalizzarvi sul trovare ad Espy perché secondo me su un nascondiglio è facile facile invece il mio adesso devi devi fare capito le cose contro di Espy ma perché per non essere trovato come fate a scrivervi tra di voi voglio scrivere ad Espy dove sono non ti interessa fatto ma l'hai scritto a me sto trollando Fere non capisci nulla Espy com'è andata? mamma mia il nascondiglio è il più stupido di sempre è una bottiglia di champagne dietro al divano stanno barando Luca Fere non lo so Espy ricontrolla quella stanza ho sentito Fere ridere io sto ridendo perché non so che cosa state io non vi vedo vi vede praticamente Luca cioè Luca vede Espy a quanto sono prima li vedevo perché ridi? perché siete non vedete neanche le cose sotto agli occhi davvero a me è sembrato che una bottiglia si muovesse qualcuno ha una bottiglia? io forse sono una bottiglia e mi sono passato di fianco dopo puoi rivedere il video ed ero sotto i tuoi piedi salve uccidino boom yes è ucciso anche me perché io ero la scatola mi sei passato sopra venti volte non mi hai visto allora la bottiglia l'ho intravista è della serie la scatola no cioè sei passato cioè la mia scatola è l'unica ferma hai mosso tutto la mia era l'unica ferma praticamente con la bottiglia ho avuto il cervello che faceva ma davvero l'ho visto o me lo sono immaginato e sono continuato ad andare avanti perché poi è arrivato anche Espy esatto che bella la vita che bella la vita allora dato che vi abbiamo lasciato un minuto in più per nascondervi mi sembra giusto un indizio ok allora Espy do un indizio in questo posto dove noi siamo nascosti c'è l'ossigeno oh è non è un bell'indizio ringraziati e c'è pure la luce quindi non è un posto buio eh vi piacciono come indizi ma non c'entra niente dai siamo in guerra siamo in guerra ai nemici non si danno indizi fa male perdere vero in realtà siete morgi poco fa però sono ancora triggerato da prima ciao Luca come va cosa sto facendo sei inchinato che ti alzi e ti riabbassi tutto il tempo oddio sono qua sono al ristorante Fere che bella la vita che bella la vita sto facendo un giro che sto dall'altra parte si è bello quando puoi stare fermo e tranquillo e vedere gli altri impazzire tutto il tempo a cercarti ma tu se le affermo che ti rilassi è arrivata anche Fere ciao Fere come stai oggi? sono arrivata anche io per uccidermi ci racconti qualcosa dai qualcosa di bello la vostra morte ok come accadrà raccontaci adesso tra 5 secondi non minuti sono troppi vi spareremo 1 2 3 4 5 Fere non siamo morti allora le casse ci hanno ripromesso era una storia falsa Espy ci ha raccontato una finta storia allora stai zitta che mi stai distraendo non lo so cioè ha detto che siamo morti 5 secondi no Luca dai parti sono in giro tu dove sei? io sono al bar e mi risponde in ritardo non è colpa mia il mio collaboratore qua sta dormendo allora dai per fare questo round un po' più svelto siamo all'esterno un po' più svelto cosa vorresti insinuare scusa? perché tanto non ci trovate ma neanche se piangete questa volta ok siamo all'esterno quindi non guardate all'interno della casa e non perdete tempo proprio al sole stiamo prendendo il sole stiamo benissimo c'è proprio un sole che spacca le pietre allora aspetta Espy perché chi sta ridendo? secondo me mi vedono ho questa pietra chi sta ridendo? no prima ho sentito l'esplosione quindi so che sei in zona e che stai facendo qualcosa ok ho sentito un'esplosione e voi non mi siete trasformati? no non siamo trasformati non ci crederò mai no non siamo trasformati aspetta un attimo ho notato una cosa un po' strana Cosa? cosa stai notando? cosa stai notando? ma dai ma le se le mie granate cadono non riesco neanche a provare le cose che c'è qua un vaso trasparente non vorrei che fossero qui dentro ma han detto che non si sono trasformati eh appunto appunto una volta cosa? ma dove? basta cos'erano? stavamo saltando due ore ci sbucava la testa e non ci vedevi erano dentro quel vaso Espy perché quel vaso era trasparente e ci entravi dentro paralo ti prego allora come ti è venuto in mente di essere una fedia? ma io non pensavo che stessimo registrando sì 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 è serissimo Espy hai capito? mamma mia Stef questo vuol dire che si è triggerato proprio male proprio dentro l'animo sì cioè non penso che mi passerà cioè anche quando finiamo di registrare me ne vado anche tra due anni a cena come fa? prevedibile era nel vaso dove eravamo prima cioè nemmeno mi sono avvicinato io ho sparato da tutta io non ho più nulla da registrare con voi quest'oggi ve lo dico magari quando mi proporrete qualcos'altro tornerò a registrare insieme a voi però per oggi non ne ho più interesse ma come registri qualcosa? no Espy non voglio più registrare niente di niente direi che ci stanno fermare così per questo video non sono molto felice te lo devo dire eh mi dispiace questa volta li hai subiti tutti tu i troll mi dispiace quando siamo da soli ti trollo quando sei con Luca te ne approfitti per vendicarti e questa cosa a me non piace devo vendicarmi di tanti video di troll quindi capisci bene che devo esagerare cioè perché tu prendi un bonus nel team tramite Luca io prendo un malus tramite Espy e succede che e sto diventando come lui e sto diventando come lui fra un po' non riuscirò neanche a nascondermi contro di te e sarà la fine di Stephen magnifico te lo dico comunque noi speriamo che il video vi sia piaciuto nel caso lasciate tanti like se fateci sapere se comunque la mappa vi è piaciuta perché siamo curiosi di sapere se le mappe così grandi vi piacciono e ci fermiamo così ora che si è piaciuto se siete piaciuto lasciateci me like questa è la prima volta che avete il nostro video e potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi ciao e alla prossima ciao 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 ciao